E' stata presentata questa mattina a Pesaro We Nature la prima edizione dell'evento che celebra la bellezza della natura e invita a riflettere sugli attuali scenari climatici. L'appuntamento, in programma il 21 e 22 maggio, si svolgerà nel bellissimo borgo di Fiorenzuola di Focara, nel cuore verde del Parco Naturale Monte San Bartolo. Ambiente, sostenibilità e futuro saranno alcune delle parole chiave che uniranno esperti, ricercatori, studiosi e osservatori chiamati a indagare e raccontare il presente dei mutamenti climatici, ma anche a condividere pratiche virtuose che possono cambiare il futuro a partire dai comportamenti quotidiani. Diversi gli appuntamenti tra ospiti ed esperti come il meteorologo e climatologo Luca Mercalli e il saggista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Una prima edizione realizzata anche assieme al Parco del San Bartolo e anche assieme alla collaborazione e anche il know-how tecnico di Swarovski Italia. È un'occasione per riflettere sulla natura, ci sarà anche Luca Mercalli e tanti altri esperti, ragionare sui cambiamenti climatici, ragionare sulla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, partire dalla perla di Fiorenzuola di Focara e anche dalla cultura con presentazioni di libri, incontri, dibattiti e anche tanta musica e anche la possibilità di conoscere sempre meglio e sempre più a fondo in maniera sostenibile la bellezza del Parco San Bartolo, un'iniziativa a cui teniamo particolarmente e che speriamo possa anche crescere nel tempo e che ci piace e possiamo poter portare avanti, tra l'altro anche in collaborazione con la Regione Marche. Ci siamo trovati in perfetta sintonia con i comuni di Pesaro che da questo punto di vista negli ultimi anni è molto impegnata verso la salvaguardia dell'ambiente attraverso diversi progetti. Ne abbiamo proposto uno che è quello appunto di parlare di conservazione della natura, di ambiente, di sostenibilità. Facendo un po' il punto della situazione attraverso la voce di scienziati, ricercatori, in modo tale da avere un quadro della situazione che sia certo e scientificamente dimostrato. Oltre ai talk show, tra le iniziative, i laboratori didattici, approfondimenti sugli animali, guide naturalistiche, imparare a realizzare un reportage sulla natura, escursioni e track bike con punti di osservazione e molto altro ancora. Il Parco del San Bartolo è una piccola chicca sul territorio, molto piccola certamente, ma con delle caratteristiche peculiari sia ambientali che dal punto di vista geomorfologico talmente importanti. Ricordiamoci che abbiamo un piccolo museo paleontologico all'interno dove ci sono reperti estremamente importanti. Al di là di quello si tratta di conferenze molto importanti anche sui cambiamenti climatici e quindi un argomento che credo che sia di attualità. Soprattutto in momenti come questi dove chiaramente noi stiamo affrontando un periodo di grande siccità perché ricordiamoci che sono anni che non piove in modo adeguato su questo territorio. Il San Bartolo ne risente sotto ogni punto di vista anche sulla sicurezza perché chiaramente se non piove il San Bartolo, soprattutto nei mesi estivi, e voi ricordate l'incendio del 2017, è a rischio proprio come territorio. Abbiamo cercato di incentivare la tutela con l'inserimento di telecamere termiche. In principio questo creerà quantomeno un piccolo passo per mettere in sicurezza il nostro territorio. Per scoprire il programma completo è possibile visitare il sito dell'evento. Per noi il Parco del San Bartolo, il Fiorenzolo di Focare in modo particolare è un luogo tra quelli più straordinari che abbiamo nel nostro patrimonio. e rappresenta un'attrazione vera, sia di compromesso tra l'ambiente bellissimo, la capacità di farlo conoscere, anche con delle imprese di valore come quelle che stanno organizzando questo evento, ma farlo diventare un luogo glamour e anche attrattivo saranno i prodotti enogastronomici, soprattutto il vino, dove si produce lì delle specificità speciali, in modo particolare la focara colpino nero. Quindi sono luoghi dove c'è grande attenzione dal punto di vista agricolo e anche enogastronomico.